L'intervista che Carlo Gasparri ha rilasciato nei giorni scorsi a Teleelba per replicare a quella del sindaco oramai uscente di Portoferraio Roberto Peria ha provocato una contro-replica da parte dello stesso primo cittadino. Una puntualizzazione di carattere politico, quasi una provocazione, che avrà sicuramente degli effetti sulla discussione politica che ancora non decolla in questo momento di stand-by della campagna elettorale. Io intanto ribadisco quello che Carlo ha detto a me, che anch'io voglio bene a lui, perché poi tra l'altro Carlo è davvero una persona importante di questo territorio e l'importanza anche di questo uomo che ha avuto un ruolo anche per valorizzare le bellezze naturaliste e l'erba non marginale spesso non è riconosciuta. Devo dire che sulla sua intervista, ovviamente a Carlo mi sento di dire questo. Lui dice che non abbiamo combinato granché. Se va nell'albo pretorio online e guarda la mia relazione di fine mandato, troverà le 76 opere, fra piccole e grandi, che abbiamo realizzato negli ultimi cinque anni e ce ne sono altre che verranno realizzate in questi mesi e non sono contenute nel rapporto e si ferma il 31 dicembre 2013. Se guarda la storia amministrativa trova gli oltre 20 milioni di euro di lavori fatti direttamente dal comune, oltre a tutti quegli altri concordati con altri enti pubblici e lasciati comunque alla collettività. Però c'è una cosa che mi colpisce nella reazione che ha avuto Carlo. Lui effettivamente è l'uomo forte della lista che fa capo a Mario Ferrari e io qui pongo un problema politico, lo pongo come riflessione, come riflessione collettiva anche di un'intera città. Carlo è sempre stato contro le scelte urbanistiche che noi abbiamo fatto, dal porto persino al banchinamento fra Molo Massimo e Alto Fondale senza il quale quest'estate il porto di Porto Ferraio si sarebbe totalmente paralizzato e per fortuna non è successo niente invece, nonostante il ritorno dei turisti e le quattro compagnie. Allora io mi domando, ma Carlo che ha questo ruolo forte e ce l'ha perché lui ha un carattere forte, perché è un uomo che ovviamente difende con autorevolezza le sue idee. Che cosa comporterà come riflesso a livello di azione amministrativa futura? Perché noi abbiamo messo in campo dei piani, delle ipotesi di sviluppo che ormai si stanno concretizzando e che l'anno prossimo potrebbero partire i lavori con le prime iniziative che sono fondamentali per il futuro di Porto Ferraio. Cioè chi è contro il progetto del porto cantieri, chi è contro il progetto della ristrutturazione del porto commerciale, chi è contro tutte le scelte strategiche, non è che fa ripartire Porto Ferraio da capo? Questa domanda mi piacerebbe che Carlo ci desse delle risposte, cioè per dirci lui che vince le elezioni con Mario Ferrari che cosa fa di queste opere fondamentali per la città.